Eccoci qua con Antonio. Ciao a tutti, ciao a Steve. Facciante a trainer. Devo fare un libro poi. Come stai? Tutto bene, tutto bene, fortunatamente. Oggi siamo tornati in zona gialla, quindi diciamo si può tornare anche in strada, tutti i belli carichi. Vedi, cioè tutto fatto apposta. Allora, molto figo questo topic che hai scelto Antonio sull'atteggiamento mentale da avere quando sia per strada, anche in chat che è nella parte di sera, si ottiene un nulla di fatto, quindi un 2DP che spesso e volentieri fa rimanere di merda le persone. Allora, prima domanda che ti faccio. Quanti studenti sono suscettibili ai 2DP? Tantissimi, cioè praticamente tutti, perché la loro paura principale non è tanto magari, non è tanto dire va bene o no il numero, ma è proprio il fatto che le rifiutano, ok? Cioè che le ragazze rifiutano loro, quindi non è tanto il risultato, ma il fallimento che li preoccupa, ok? Cioè la sensazione di essere, di non essere piaciuti. Esatto, di essere rifiutati sostanzialmente, quindi scartati. Questa sensazione li fa sentire molto sotto pressione e appunto li fa bloccare, perché appunto se tu vai da una ragazza che sostanzialmente magari non ti ispira come invece ti ispira un'altra che vorresti fermare, sei molto più tranquillo e rilassato, perché non ti interessa nemmeno se questa ragazza non ci sta. Tanto, cioè, non ti interessa di base e dici, vado a cuor leggero, se va va, se non va, vabbè, non fa niente. Questo infatti è quello che dico a tutti quanti i miei studenti, ovvero vai lì a cuor leggero, può essere anche Belen, ma tu ci devi andare sempre a cuor leggero. Cioè, tanto, mal che vada, cosa hai ottenuto di brutto? Niente, cioè, non è capitato niente, la tua giornata è uguale, la sua pure, quindi hai distrutto di brutto. Ma allora, tanto, come studente tu avevi, diciamo, questa, quest'ansia? All'inizio, all'inizio, ma giusto proprio il primo pomeriggio, ho detto, boh, ma può essere che, però poi dopo il primo giorno, il primo proprio che è andato, tra l'altro, benissimo, è stato mezzo pomeriggio, ho detto, ok, vabbè, era una cazzata sostanzialmente, cioè, infatti... I penulti, però, ovviamente, non tutti sono, diciamo, magari anche fortunati un po' come te, quindi, per esempio, io quando sei, sette anni fa feci il corso dal vivo, cioè, io, il primo approccio, il primo conoscenza per strada, due amiche, cioè, fu un palo clamoroso, e lì dovessi trovare la forza dentro di me per assimilarlo bene, perché se no è la fine. È vero, assolutamente, perché poi, vabbè, a me il primo è andato bene, ma non è che poi tutti mi sono andati bene, anzi, quindi, diciamo, quella fortuna iniziale, o comunque quella, sì, quella fortuna iniziale mi ha aiutato, sì, ma ho capito, comunque, continuando, che, appunto, cioè, i pali si ricevono ed è importante saperli assimilare, è importante non prendersela, perché normalmente cosa succede? Cavolo, mi ha rifiutato, sono una merda, faccio schifo, quindi non vado avanti e smetto di farlo, no? Sediamoci al bar, non continuiamo perché non voglio farlo, perché ci sto male. No, cioè, non, tanto, appunto, nella tua cerchia sociale non è cambiato nulla, nella tua persona non è cambiato nulla, nella sua persona nemmeno. Quindi, continuare a piangersi addosso e dire, ok, va bene, ho fallito, quindi non lo faccio. E cosa fai? Cioè, nella vita, se sbagli un gol, cosa fai? Vai in panchina e smetti di tirare? Non ha senso questa cosa. Continui, ci riprovi. Secondo te perché sono così suscettibili dagli errori? Perché alla fine è un essere suscettibili da un errore, errore che, come hai detto tu, fai anche in altri ambiti, però, cioè, qua è un casino. Ma perché in ambito sociale il rifiuto dato dalle altre persone, come un giudizio negativo, ci abbatte. Anche a scuola, quando magari da piccoli prendevamo dei voti brutti, ci abbattevamo, magari si piangeva addirittura, ok? E questa è la sensazione che si ricrea in noi, ed è una cosa bruttissima che nessuno vuole vivere, sostanzialmente. Tre, quattro paradigmi, quindi pensieri, diciamo, potenzianti da campione che, diciamo, tu consigli ai tuoi studenti? Allora, sicuramente il primo è, come l'abbiamo accennato praticamente per tutto questo tempo, il fatto di non avere paura di un fallimento, perché alla fine un fallimento è un risultato. Ciò vuol dire, mal che vada, ok, non è andata, analizzo un attimo quello che è successo e cerco di migliorarmi per la volta dopo. Quindi questo è sicuramente il primo. Assolutamente. Il secondo è andare senza, senza alcuna aspettativa. Zero, zero, vai lì, in tranquillità. Cioè, veramente, infatti, per far sciogliere gli studenti, cosa succede? Normalmente, quelli che non hanno proprio voglia o non hanno il coraggio di andare, gli dici, ok, andiamo in un negozio e parli semplicemente con la commessa, con la barista, con chi che sia, e lì inizi a scioglerti. Perché? Perché devi semplicemente parlare. E poi una cosa particolare, tutti quanti mi dicono, io arrivo lì, non so cosa dire. Oppure dico il mio opener e poi non so che cosa dire. Ok, e allora cos'è che devi fare? Semplicemente commentare quelle che sono le sue movenze, anche solo, no? La risposta, anche non verbale, è pur sempre una risposta. Quindi, ti aggancia come si sta comportando, se è chiusa, se è aperta, ok? Sì, tutto fa brodo, tutto fa brodo. Esatto, tutto fa brodo. Al tre, mettiamoci su come avere l'atteggiamento mentale per passare oltre due di picche. Come lo dico, io lo dico sempre, sta cosa qua. Cioè, vai un pochettino a soppesare mentalmente e razionalizzare quello che è successo. Cioè, fai dei tanti pensieri tra cui tu ti stai facendo condizionare l'umore e lo stato d'animo da una sconosciuta che ti ha detto di no dopo tre, quattro secondi. Fra l'altro, magari talvolta non ti ha neanche sentito finire la frase. Cioè, ma puoi, puoi farti condizionare l'umore e darti del coglione per una sconosciuta che non si è fermata? Quindi, cioè, quello che pensi è una sconosciuta che non vedrai mai più è molto più importante di quello che tu pensi di te stesso. Esatto, cioè, anzi, questo secondo me dovrebbe generare in te quella cattiveria agonistica per andare a dire, ok, adesso lo rifaccio, vado a qualcun'altra, cazzo, finché veramente non mi va bene. Perché se no, cioè, se ti abbatti non andrai da nessuna parte, ma anche nella vita, non solo con le ragazze. Perfettamente d'accordo, perfettamente. Ultima? Ti hai risegnato qualcosa? Allora, sì, chiaro, cioè, come? Dico, come ultimo atteggiamento mentale, diciamo, per superare il due di picche, a cosa pensare? Ti viene in mente qualcosa che fai fare spesso o che facevi tu? Quando ricevi un due di picche, sostanzialmente, se sei in compagnia in particolare, portarti dietro persone positive che dicono, bravo, sei riuscito ad andare, non ci interessa niente, cioè non ci importa che ti è andata male, ci importa semplicemente che hai avuto le palle, sostanzialmente, di andarci e riuscire a fare una cosa che nessuno fa, sostanzialmente. Quindi... Grazie al gruppo. Esatto, questa cosa aiuta veramente tanto gli amici. Sì, uno. Esatto, ne basta uno, infatti, cioè, in coaching è proprio così che funziona, cioè, non è tanto se prendi un numero che ti facci i complimenti, ma anche se tu ti sei buttato, è lì che veramente hai fatto la mossa giusta, hai fatto la cosa che dovevi fare. Poi si analizza quello che è successo e si trovano, magari se sei andata male, si trovano delle correzioni da fare. Domanda, poi ti lascio andare, è mai successo che in coaching un ragazzo ti scrivesse, mandasse un audio, mentre era lì a fare da solo approcci per strada? Mentre era a fare da solo approcci? No, subito dopo sì, però, perché c'è uno studente, appunto, che verrà poi a un master su Milano, che è veramente stato molto in gamba e mi ha detto, guarda, adesso che mi hai dato questi consigli, perché lui, appunto, voleva migliorarsi nella parte in street, in strada, ha detto, ok, va bene, vado quasi tutte le sere, in realtà, perché lui esce col cane in tranquillità e ragazze si mette a parlare e poi mi fa il report di quelle che sono state le sue serate, i suoi approcci. Pazzesco. Grazie, Antonio! Alla prossima! Poi. Ciao, ciao, ciao.